Ciao, battendo un record di ruota. Ok, ora farei un po' un decamminato, un po' un decamminato, è troppo stanco, neanche lo sa fare forse, al dentro si vede la pancia. Ok, vi farò vedere la verticale come c'è. Vabbè, c'è un'altra che vi vuole fare vedere la verticale, questa bambina qua, è Ludovica. Vai, ok, alzati, ciao, ci vediamo presto!